Ecco, buon pomeriggio. Prima del prossimo intervento volevo ricordarvi a chi di oggi siete arrivati adesso per la prima volta alla Social Media Week. Questa sala è frutto in questo momento di una sperimentazione di mood in base alla luce che potete controllare proprio voi. Ispirandoci ai filtri di Instagram, insieme a Philips abbiamo creato un'esperienza che ha come obiettivo far vedere come la luce non è soltanto una cosa funzionale, ma serve anche per creare atmosfera. Quindi durante l'intervento potrete votare con questi quattro hashtag che vedete sullo schermo e ogni 20 minuti la luce cambierà per proprio rappresentare in quale mood si trova la sala. Adesso vi faccio vedere solo un esempio con il filtro Kelvin. Vedremo come la sala inizia a trasformarsi. E questo, se volete, un po' l'esperimento che volevamo fare era come fare durante una conferenza dove di solito c'è una comunicazione unidirezionale anche per trasmettere ai relatori la conversazione che sta succedendo e il mood proprio della sala. In realtà adesso passeremo proprio all'intervento vero e proprio che si chiama Tecnologia e riscoperta delle relazioni con Ivana, Gianmaria e Nicola a cui do la parola per iniziare. Grazie. Grazie, buonasera e benvenuti. La luce rossa vuol dire che non state gradendo. Ci dobbiamo preoccupare. No, sto scherzando. Buonasera. Sono Gianmaria Zapelli e con Ivana e Nicola ci siamo preparati e abbiamo immaginato di proporvi questa riflessione in questo spazio. La riflessione è quella di leggere le risorse che ci consente la tecnologia della rete, le risorse sociali attraverso il digitale come un'occasione per costruire una dimensione di comunità e di legame. In altre parole il mio compito è in questo momento, io sono oggi responsabile di una società che si chiama HC e ci occupiamo di consulenza manageriale, formazione manageriale. Sono di formazione uno psicologo e la mia esperienza è quella di stare prevalentemente a contatto con le principali aziende nazionali e internazionali che sono in questo Paese, occupandomi di un traguardo che è quello di aiutare le persone a costruire capacità di cittadinanza organizzativa all'interno delle organizzazioni. Il tema che io mi permetterò di proporre agli amici Ivana e Nicola è un tema sulla difficoltà che mi pare di leggere oggi all'interno della nostra comunità riguardo alla capacità di sentirsi e vivere una comunità. Quindi proverò a presentare una sorta di part destruence per lasciare il compito a Ivana e a Nicola di proporre una dimensione positiva e progettuale della rete sulla sua capacità di essere agente di comunità, di etica e anche di valori. Quindi ecco qui un po' la mia lettura di quello che io percepisco intorno a noi. Siamo in un'epoca, scusate la retorica, in un'epoca di crisi e arriviamo in questa epoca di crisi con delle trasformazioni che io credo anche psicologiche. Come sappiamo le capacità psicologiche non sono solo un prodotto biologico ma sono anche un prodotto culturale. La nostra mente è costantemente il prodotto di un adattamento a ciò che vive. E prima della crisi la nostra mente, le nostre strutture comportamentali avevano acquisito alcune caratteristiche che possiamo anche sintetizzare sotto la categoria di liquidità. Abbiamo a poco a poco imparato un mondo, prima della crisi, che rimane però un mondo, in cui la dimensione dei legami era molto più frastagliata, era molto più precaria, un mondo che ha enfatizzato la dimensione biografica dell'io. In qualche modo abbiamo imparato anche e soprattutto grazie alle tecnologie a entrare in contatto con un io biografico, con una storia di noi attraverso le tante occasioni che le tecnologie, il mondo sociale, il mondo genitale ci mettono a disposizione. In più abbiamo anche imparato una dimensione della multiappartenenza, della capacità di appartenere a molti contesti. Poi è arrivata la crisi e la crisi, dal mio punto di vista, per come io la sto vedendo, dentro il mondo delle aziende, dentro il mondo delle organizzazioni, ha prodotto degli adattamenti, ha prodotto adattamenti psicologici, ha prodotto tentativi di stare in relazione con una dimensione di vulnerabilità e di precarietà che oggi la crisi sta diffondendo massicciamente. Alcuni di questi adattamenti. Il primo adattamento è, mi pare di poterlo chiamare, una sorta di anoressia empatica. Sempre più frequentemente le persone stanno perdendo la capacità di entrare in una sorta di comunicazione, di contatto reale, non solo formale, con l'altro in quanto diverso. Faccio un esempio. Abbiamo imparato a ricevere costantemente all'interno del mondo delle organizzazioni email, messaggi, e siamo costantemente all'interno di continui contatti in essi. E tutto questo sta producendo tantissime persone che ormai hanno cessato di ascoltare gli altri colleghi, mettendo in attesa email, mettendo in attesa telefonate, mettendo in attesa continue richieste di ascolto e di attenzione. Le organizzazioni del lavoro, ovviamente, sono state un luogo dove la dimensione della frenesia, della velocità e dell'emergenza sono costanti e la sopravvivenza psicologica sta producendo una risposta alle capacità di relazione che è quella di chiudersi, di diventare più, come dire, insensibili alla percezione dell'altro con le sue diversità. Un'altra dimensione che io percepisco all'interno della comunità, ovviamente è una mia percezione quanto tale assolutamente anche criticabile, è una perdita di un sentimento della comunità. Ricordo che la parola comunità deriva dal latino comunitas e che riguarda la capacità di scambiarsi un munus, un regalo. Appartenere a una comunità significa anche l'obbligo di fare un regalo, un munus, alle persone con cui tu sei legato. Ora, questa dimensione della capacità di stare in comunità con un sentimento dell'obbligo verso l'altro mi pare molto più fragile in una dimensione di crisi, dove spinge le persone a tirare il remi in barca, a ripiegarsi, anche un po' spaventate, su una dimensione privatistica e isolata. Un'altra dimensione che io percepisco in questo momento è una dimensione che possiamo in qualche modo associare al tramonto dell'autorità. Vado a dire, stanno diffondendosi forme di legami che alcuni sociologi hanno chiamato neotribali. Vado a dire, le modalità per sentirmi vicino alle persone, per essere capaci di costruire legami con le persone e sono la simpatia e la sensazione e lo stato emozionale che mi provocano. Per cui sto bene con le persone che sento più facili, che sentono simili a me. E faccio molto più fatica a entrare in relazione con la diversità, con coloro che hanno esigenze, culture, comunicazioni diverse. E molte delle formazioni sociali che si stanno sviluppando hanno questa caratteristica di essere formazioni molto chiuse, ma anche molto impermeabili a percepire l'esistenza di una diversità con cui mettersi in relazione, perché la diversità comporta uno sforzo psicologico e cognitivo. E l'ultima dimensione che io trovo, che caratterizza un po' questo presente, è una dimensione post-etica. Mi sento di poterla chiamare post-etica. Ancora una volta, etos è la capacità di avere per abitudine un certo comportamento. Io sono una persona etica se io per abitudine mi comporto secondo dei valori che ritengo corretti. Oggi siamo in un'epoca in cui abbiamo imparato ad adattare i nostri comportamenti ai nostri valori, e non il contrario. Per cui ci sono persone che pur credono nella trasparenza, nella sincerità, o persino nell'onestà, e magari non lo sono sempre trasparenti o sempre oneste, però riescono a trovarsi strategie difensive che in qualche modo spiegano questa deviazione dalla loro eticità. Allora, ovviamente non sto lanciando nessuna accusa, nessun atto di critica. Sto semplicemente portando l'attenzione che la crisi sta producendo anche degli effetti di impoverimento sulle capacità delle persone di tollerare l'altro e la fatica che l'altro come comunità richiede, spingendo le persone sempre più, almeno nel mondo del lavoro, a ripiegarsi in una dimensione individuale e di opportunismo individuale. Ora, la dimensione sociale, la dimensione delle comunicazioni sociali che ci offre oggi la rete ha questo tema, secondo me da psicologo, un tema che è quello riuscirà la rete a rimettere in discussione capacità di pensiero, capacità di sforzo e di legame. Pensiamo a come invece si sia impoverito a volte il linguaggio dentro la rete, come si sia impoverita la capacità di mettersi in una relazione critica e dubitante sulle proprie certezze e sui propri valori. Allora, c'è un dato anche, io sono uno psicologo anche clinico, di formazione, ma più recentemente mi sono avvicinato in modo significativo alle neuroscienze. C'è un dato interessante sul piano delle neuroscienze. Neuroscienze, come sapete, ci dicono sul comportamento dei nostri neuroni. E i nostri neuroni sono l'esito di un adattamento ambientale. Ora, la coscienza, cioè la capacità del comportamento critico sui nostri comportamenti, è il prodotto solo di una zona del nostro cervello, che sono i neuroni prefrontali. E sono quei neuroni che ci consentono di fermarci e di dubitare se quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene e potevamo farlo meglio. Oppure di ascoltare più accuratamente una persona anche se con questa fastica. O sono i neuroni che ci servono quando torniamo a casa stanchi e ci siamo detti che vogliamo leggere un buon romanzo e anziché metterci davanti alla TV perché non abbiamo più altre energie, abbiamo la forza di leggerci un romanzo. Allora, queste risorse, che sono le risorse del futuro, perché producono una capacità di consapevolezza e di sforzo, si stanno erodendo dentro l'emergenza e dentro la crisi. Perché le risorse importantissime delle nostre capacità cognitive sono dedicate a gestire la vulnerabilità in cui ci troviamo. Allora, il futuro non è fatto di una risposta emozionale, non è fatto di emozioni che vanno a ruota libera, ma è fatto di pensieri che accuratamente cercano di capire cosa si può fare meglio. E quindi la speranza è che le risorse della rete alimentino questo futuro. E quindi vorrei chiudere questa piccola introduzione, lasciando il contributo a Ivana e a Nicola, con un piccolo test, se mi consentite. Non mi potete dire no, ma se mi fate venire luci rosse, che è un piccolo test che vi chiedo di fare, se avete voglia, io farò tre domande e di rispondere silenziosamente alla prima risposta che vi viene in mente. Dopodiché mi permetterò di dirvi una chiave di lettura a cosa vi è venuta in mente. Quindi farò tre domande. La primissima cosa che vi viene in mente, sapete, è tipico degli psicologi, no, questo, di dire la prima cosa che vi viene in mente. Allora, la prima domanda, poi ricordatevele, io potrei essere una persona più soddisfatta nel mio lavoro se? Io potrei essere una persona più soddisfatta nel mio lavoro se? Datevi una risposta, gentilmente, chi vuole partecipare. non dovete dirla ad alta voce, in silenzio, per voi, se no, dopo vi psicanalismo subito all'istante, no? Sì, non ve l'avevamo detto, ma questa è una puntata del mentalista. La seconda domanda, io potrei, ancora più impegnativa, io potrei essere una persona più felice nella mia vita se? Più felice nella mia vita? Io potrei essere più felice nella mia vita se? E l'ultima domanda, ciclopica, io potrei vivere in un mondo migliore se? Io potrei vivere in un mondo migliore se? Anche se vi sembra enorme, è la prima che vi viene in mente. Fatto, procedo. Allora, una piccola chiave di lettura. Qualunque cosa avete pensato è naturalmente giusta. C'è una grande, grande differenza, però. E dal punto di vista psicologico, questa differenza si chiama locus of control, vale a dire dove mettiamo la nostra sensazione di poter avere in mano la nostra vita. Tutte e tre le domande potevate rispondere in due modi. Farvi venire in mente una cosa che dipende da noi, io potrei essere più soddisfatto nel mio lavoro se? E mi viene in mente una cosa che dipende da me. Se fossi capace di prendermela di meno, se fossi più tollerante, se fossi più capace di gestire il mio capo o le persone non sempre gradevoli che ho intorno. Oppure, ci viene in mente qualcosa che qualcun altro deve fare per renderci soddisfatti. Io potrei essere più felice nella mia vita se? Può esserci venire in mente qualcosa che dipende da qualcun altro o qualcosa che dipende da noi. Se non che, se avete pensato a qualcosa che dipende da qualcun altro, avete rinunciato a occuparvi personalmente della vostra felicità. E poi abbiamo io potrei vivere in un mondo migliore se? E questa domanda costruisce il futuro. Perché Gandhi a questa domanda si diceva la liberazione dell'India dipende da me. E oggi ci sono persone che nemmeno il vicino di casa o la persona che cade come dire svenuta nella metropolitana pensano che sia un affare loro e passano diritti. E quindi abbiamo un tema di comunità e lo vediamo anche fuori di qua. Non so se siete d'accordo ma non siamo in un paese che sta mostrando una capacità di comunità. E quindi dopo questo dei profondi a Ivana ti ringrazio Ivana perché mi hai sbolognato la palla. Va bene allora lui è chiaramente nel nostro gioco delle parti l'uomo antisocial l'avete capito in questa giornata invece a me tocca fare la difesa dei social. Quindi parto per difendermi e arroccarmi su una primissima posizione cito Ilman e Ventura cent'anni di psicoterapia e il mondo va sempre peggio. Non so se avete letto un libro in modo da costruire una primissima frontiera di difesa a parte la battuta. È vero che i social nascono se avete letto American Nerd di Benjamin Nagent credo ci sia tantissimo in quel libro che racconta da dove nasce un po' di questo mondo che bene o male ci tocca vivere in questa fase ovvero nel momento in cui ci si rende conto che c'è una difficoltà di relazione e soprattutto le persone che hanno difficoltà di relazione più forti di altri moltissime delle persone citate dal libro di Nagent arrivano a patologie fino ad Asperger come isolamento della relazione con gli altri usano la tecnologia per interagire con gli altri. Quindi la cosa buffa è che tutto il tema social nasce da una cosa molto individual e molto poco social perché se è vera la storia ma credo che come dire la logica con cui moltissime delle tecnologie che ci permettono di interagire sono nate e cresciute sono state sviluppate da nerd molto capaci di smanettare sui dati e meno capaci di interagire con gli altri e il paradosso è questo che poi questo paradigma diventa il paradigma con cui invece noi interagiamo in maniera massiva dire che si interagisca in maniera più o meno di qualità è un tema molto interessante questo che tu metti sul tavolo perché è chiaro che tutti noi credo abbiamo a che fare con la patologia dei like e dei follower che è un tema che alla fine prende un po' tutti adesso dipende da quanto voi siate dentro o meno diciamo nel bacino dei social ma sicuramente a un certo punto siete entrati nel loop del vedere chi vi sta seguendo quando arrivate a mille volete arrivare a duemila quando siete a duemila perché non diecimila e così via fino a che non iniziate a comprarvi di follower che è forse il metodo migliore per venire meno anche a questa innesima patologia che viene generata peraltro c'è materia di lavoro per psicologi e sociologi perché un'ultima stima dell'anno scorso stimava in 200 miliardi di euro i costi delle patologie stress correlate sull'ambito del lavoro legate a proprio logiche di questo tipo cioè al fatto che ci siano delle logiche di ansia e non so se avete visto la notizia di ieri di BMW che per la prima volta sdogana il lavoro fatto sui vari canali di comunicazione extra ufficio e dice va bene sono pronto anche a attribuire una parte del vostro compenso quando voi twittate in conto mio lavorate per conto mio per conto mio brand anche quando non siete formalmente all'interno delle quattro mura di uno spazio di lavoro come dire che ci sono davvero meccanismi e qua la banalità del giorno che stanno cambiando il modo con cui noi interagiamo di cui però secondo me non abbiamo assolutamente la percezione e la certezza una cosa di cui abbiamo certezza è che sono parte del nostro quotidiano non è detto che tutte le innovazioni siano innovazioni per forza buone tristi tropici Strauss dice che alla fine certo Gutenberg ha cambiato il mondo ma tutta l'innovazione è fatta ed è diventato tutto rosso appena ho citato tristi tropici questo per far venire ancora più caldo cita il fatto che non tutte le invenzioni alla fine sono così efficaci o rivoluzionari come ci sembrano ora è chiaro che per noi Gutenberg rappresenta sicuramente un punto di volta però quello che è stato costruito prima di Gutenberg è stata un'evoluzione molto più ricca e violenta di tutto quello che si è avvenuto dopo e mi viene anche da dire alla fine con Gutenberg ci puoi stampare anche dei brutti libri compreso il mio in particolare cioè come dire c'è un modo di utilizzare la tecnologia e l'innovazione che va in direzione diversa ma per ritornare alle provocazioni di Gian Maria è inutile come dire non considerare quell'aspetto penso che siamo già oggi in un momento critico in cui noi possiamo cominciare a valutare dove ci sta portando questo tipo di cambiamento non saprei dire se è evolutivo oppure no di cambiamento sicuramente abbiamo un problema di valutazione della profondità con cui abbiamo a che fare con le informazioni e questo è un dato di fatto per chiunque faccia il mestiere di comunicare a terzi dei contenuti e sapete meglio di me di cosa voglio dire chiunque lavora nella parte di media ha a che fare con un fiume di contenuto che è molto difficile da cogliere e chiaramente c'è un altro fattore che non so se avete notato ma che secondo me diventa sempre più violento e presente che è la circolarità delle informazioni su 100 informazioni 90 spesso sono la stessa informazione ricircolata da terzi quindi tutto quello che è segnale e anche qua mi tocca citare un altro bellissimo libro che è Nate Silver con il segnale il rumore tra l'altro credo venga a maggio ospite di Wired e mi permetto di consigliarvelo perché tutto il lavoro nel cercare di estrarre senso dai contenuti che girano da questa massa in forma di informazioni credo sia importante per arrivare però al punto conclusivo è tipicamente verresti tacciato dopo 4 secondi di neoluddismo appena qualcuno si permette di criticare tutto quello in cui stiamo vivendo viene fuori una specie di barriera che dice no ormai questo è cambiato e di questo noi ci dobbiamo attestare secondo me non è una questione di essere o meno neoluddisti è una questione di capire che cosa di buono ci puoi fare con questo tipo di meccanismi di relazione e poi quindi lancio una volata a Ivana che è la maestra su questa materia ma sicuramente una delle cose che ci puoi cominciare a fare è cominciare a condividere un pezzo di conoscenza secondo me un dibattito molto interessante che magari verrà fuori oggi è se quella conoscenza che tu metti a fattore comune da chi proviene perché uno dei temi sul tavolo e poi forse Gian Maria ci può dare qualche lume da questo punto di vista è chi è che sta parlando quando sta parlando sui social ovvero siamo passati da una primissima fase in cui eravamo probabilmente davvero noi stessi poi abbiamo cominciato a mettere like a casaccio e non vi dico in quante occasioni il discorso di mettere dei like a casaccio si è tramutato in dibattiti feroci soprattutto ad esempio con i ragazzi che devono affrontare la ricerca di un posto di lavoro e si preoccupano del loro profilo sui canali sociali mi è capitato di avere un dibattito di due ore su LinkedIn proprio da questo punto di vista chiedendo a me se il fatto che avessero messo dei like sulla pesca subacquea o le fragole al pomeriggio poteva influenzare o meno il loro profilo che la dice lunga sul fatto di quanto siamo ancora noi stessi parlo di ragazzi e quindi di quelli che dovrebbero come dire in qualche modo insegnarci a me che sono cinquantenne un pezzo di strada e quindi quanto imbarazzo ci sia ancora da quel punto di vista uno dei punti però cruciali è quel se che adesso sta parlando chi è e quindi quanti di questi like che ci vengono dati sono detti da quel se o da un altro se ed è credo che sia uno dei prossimi esercizi con cui tutto il marketing ad esempio dovrà avere a che fare nello discriminare il segnale dal rumore di tutti questi se ovvero quanto siamo davvero quelli con cui noi vorremmo interagire e quanto noi stessi siamo noi stessi su queste piattaforme penso che sia arrivato il momento di cominciare a parlarne cioè diamo per scontato tutta una serie di aspetti compreso il fatto che è vero si impoveriscono i linguaggi ma contemporaneamente nascono dei nuovi linguaggi quindi ci sono nuovi linguaggi così come in tutte le fasi evolutive della storia cambia il meccanismo di relazione ma sono cambiate già il meccanismo di relazione Jacques Tati negli anni 60 già si lamentava di quanto la televisione ci tenesse lontani dalle nostre relazioni eppure poi la televisione è diventata più o meno un mezzo col quale noi abbiamo a che fare proprio nel meccanismo di relazione quindi chiudo per passare la palla a Ivana quanto di buono si può fare oggi con questi elementi di condivisione quanto di buono si può raccogliere da quelli che sono i pensieri i contenuti la forza di aver messo a fattore comune qualche cosa che prima invece viveva in silos verticali sui quali facevi molta fatica a trovare un valore se non proprio quello delle comunità chiunque faccia il mestiere del social media manager sa benissimo che cosa vuol dire comunità dal lato di qua non dal lato Zappelli di là che è un senso alla fine il senso intimo è molto simile attenzione però c'è tutto un lavoro nel cercare di costruire delle logiche comunitarie che assomigliano al tuo senso profondo del concetto di comunità e noi stessi ci interroghiamo di quanti persone riusciamo ad aggregare attorno a quel pensiero ci sono esempi a quel pensiero iniziativa ci sono esempi e adesso lascio la palla Ivana in cui questo succede grazie ai social io non so dove mi sono messo rispetto ai social Rosa mi sono messo Rosa ecco un appello non so cosa dovete fare ma twittate la luce che fa più chiara non vi vediamo quindi non so cosa bisogna fare per twittare insultarci non so però fate venire la luce chiara dovete twittare Kelvin perché siete proprio tutti al buio twittiamo Kelvin aspetta quindi fate qualcosa allora io dichiaro subito la parzialità del mio punto di vista nel senso che forse sono io quella che alla fine si sposta su questo lato perché io sono una ricercatrice sono una sociologa e mi occupo di sociologia economica e del lavoro e io da un po' di tempo sto facendo ricerca sul sul quanto di buono si può fare nel senso che io vado con intenzionalità a cercare nella rete fuori le pratiche economiche professionali e di vita che grazie alle tecnologie permettono di creare io vado intenzionalmente a cercare quelle pratiche che cercano di reagire alla crisi attraverso l'utilizzo intelligente della rete io vado a cercare intenzionalmente le pratiche di comunità comunità professionale comunità più ampie per cui sicuramente il mio punto di vista è parziale perché io ogni tanto dico sono una ragazza fortunata con una citazione molto più aulica delle tue perché io faccio ricerca nella parte bella della rete facendo ricerca nella parte bella della rete io vedo solo una parte che è probabilmente molto diversa da quella che vedi tu per cui i miei racconti vanno tutte in un'altra direzione che cosa sto vedendo quando ho pubblicato il libro un anno e mezzo fa direi sì un anno e mezzo fa ho dato un titolo che visto adesso nel momento in cui ho dato quel titolo ho mentito spudoratamente senza sapere di mentire che è peggio perché non c'era neanche l'intenzionalità ho intitolato il libro la rete che lavora quando ho pubblicato ho dato alle stampe il libro la rete non lavorava rivisto posteriori devo ammettere di non averlo fatto intenzionalmente ma la rete un anno e mezzo fa non lavorava parlava di lavoro cioè noi avevamo dei bei gruppi di discussione che dopo è lavorare anche quello sto forzando che si scambiavano informazioni che si scambiavano conoscenze ma a livello di costruzione di progettualità vera la stiamo vedendo o perlomeno io la sto vedendo negli ultimi mesi cos'è cambiato negli ultimi mesi che fino a un po' di tempo fa noi abbiamo giocato con la rete con i social media abbiamo ricostruito tutti i legami persi nel corso della nostra vita poi abbiamo capito che se li avevamo persi c'era un perché per cui li abbiamo riabbandonati e questo ci fa bene nel senso che per un po' abbiamo recuperato tutti gli ex fidanzati gli ex compagni di classe e poi li abbiamo persi nuovamente e abbiamo una rete che adesso funziona meglio rispetto a quando avevamo dentro tutti gli ex fidanzati abbiamo costruito quanti nevuti adesso sta meglio la mia rete però ex fidanzati ex compagni di classe i vicini di casa io non so voi ma io avevo i miei social erano in base da vicini di casa io sono scappata dalla casa dove vivevo cioè perché poi mi sono ritrascinata però l'ho fatto come me l'hanno fatto in tanti nel momento in cui l'ex vicino di casa ti chiede l'amicizia su facebook in linea di massima l'accetti poi capisci che forse è meglio evitare e quindi secondo me siamo arrivati in una fase in cui dopo aver scoperto con entusiasmo dopo dal punto di vista psicologico non so come questo si connoti io lo vedo dal punto di vista personale barra sociologico dopo aver giocato dopo aver fatto tante prove ed errori chi è arrivato a una maturità di utilizzo degli strumenti di relazione digitale adesso prova a fare sul serio cioè adesso ha un capitale che è quello che noi sociologi chiamiamo capitale sociale che è lì che è visibile e che è in un qualche modo cristallizzato ma si può intervenire su quel capitale sociale e chi è più capace di muovere questo capitale sociale anche con un pizzico di strumentalità che io però vedo positiva sta iniziando a utilizzare questo capitale sociale per portare avanti dei progetti io ultimamente sto facendo ricerca sul crowdfunding che è questa modalità non so quanti la conoscono per avere un'idea chissà la meravigliosa chissà la meravigliosa ecco nel crowdfunding quello che io sto intervistando progettisti che hanno portato avanti campagne di crowdfunding lì cosa vedo vedo persone che mobilitano le proprie reti per portare avanti una progettualità progettualità che può essere personale cioè c'è chi banalmente dice amici datemi una mano ed è il livello base e tendenzialmente anche qui però ci sono delle scoperte per esempio sto intervistando persone che mi dicono ma io ho iniziato una campagna senza crederci troppo fatto così un po' per caso un po' per ho iniziato perché pensavo che l'oggetto su cui era costruita la mia campagna fosse di interesse proprio tutti che quando ce ne è uno no non faccio i nomi che poi sta male c'è una persona che mi ha raccontato un progetto che secondo lui parolite spacca quel progetto spacca il progetto non ha spaccato ma neanche un po' dopodiché però posteriore nel momento in cui mi racconta il progetto gli dico beh ma quindi valutazione di questa tua campagna si è spaccato spacca valutazione della campagna e mi dice beh io ho scoperto di avere degli amici che detto lo psicologo probabilmente da un'interpretazione diversa da quella che do io però tutti i nostri sistemi di difesa assolutamente però il sistema di valutazione cosa mi dice che quello è stato un test delle relazioni non è stato un test del prodotto o del servizio che andava ad offrire ma è stata un'occasione per mettere alla prova le proprie relazioni e da quel test la sua comunità personale di riferimento la rete piccola o media grande che sta intorno a quella persona ne è uscita rafforzata questo a livello assolutamente base poi invece ci sono delle progettualità che riescono a mescolare bene il mettersi in gioco con le proprie reti di relazione è un progetto che sta in piedi a senso spacca veramente e allora lì troviamo delle persone che sono capaci di utilizzare le proprie reti in modo positivo per costruire delle belle progettualità progettualità che poi camminano a gambe facendo interviste a progettisti di campagna di crowdfunding io sto vedendo tanta innovazione innovazione progetti che altrimenti non avrebbero mai avuto vita e che hanno vita perché? perché le persone ci mettono la faccia ci mettono le loro relazioni mobilitano amici parenti conoscenti ma solo come primo passaggio per poi utilizzare tutte le dinamiche di rete che sono i passaggi dal primo al secondo al terzo grado di separazione e laddove funziona quelle che fino a sei mesi fa un anno fa noi vedevamo essere le cascate informative che permettevano a un'informazione oppure a un messaggio di passare attraverso le reti e toccare tante persone adesso invece toccano tante persone che vengono coinvolte in un progetto nelle progettualità più intelligenti il passaggio non è solo a una direzione ma è bidirezionale cioè c'è un passaggio di risorse ma c'è un passaggio di idee c'è un passaggio di competenze si costruiscono dei gruppi di lavoro nuovi a partire dal fatto che una persona coinvolge le persone le altre persone nel proprio progetto c'è una caduta tra vita privata e vita professionale che io ho sempre visto con timore finché si trattava di passaggio di informazione cioè il fatto che Facebook sia io dico che Facebook adesso qui torno in queste metafore che non so sarà San Valentino Facebook è come il pranzo di nozze che è una cosa tremenda perché cosa succede nei pranzi di nozze che noi abbiamo tutte le nostre conoscenze abbiamo la famiglia dello sposo e della sposa ma gli amici tutte le nostre sfere sociali ce le abbiamo tutte in una stanza gli sposi tentano disperatamente di fare i tavoli per isolare nuovamente le sfere sociali ma in linea di massima non ci riescono alcuni tra i film e i libri più riusciti sono ambientati proprio nei pranzi di nozze perché? perché c'è questa contaminazione tra sfere sociali che di solito non c'è allora in Facebook succede la stessa cosa però succede la stessa cosa 24 ore al giorno non per il tempo limitato fare tavole è ancora più difficile forse che il giorno del matrimonio e questo determina delle difficoltà nel gestire rapporti tra vita privata e vita professionale nel tenere i paletti la dove si vogliano tenere nel crowdfunding io sto vedendo una caduta di confini che però genera devo ricredermi sinceramente dall'analisi che sto facendo cioè in quel caso la caduta dei confini aiuta a creare nuova progettualità aiuta a sperimentarsi aiuta a mettersi in gioco aiuta a vedere se quella che ha la nostra passione può trasformarsi in un'attività professionale aiuta a mettersi alla prova nelle vite composite che ormai tutti noi abbiamo e che faticosamente di solito teniamo insieme invece lì ci sono persone che si espongono raccontano tutti le proprie passioni le proprie vite composite e lo raccontano proprio tutti colleghi amici parenti tutti insieme ma perché? perché c'è un obiettivo di costruzione di progettualità e io le comunità li vedo che si ricreano io vedo una risignificazione del legame c'è un recupero di legami persi che a quel punto però vengono orientati rispetto a una progettualità e creazione di nuove comunità resta il problema secondo me questo è l'aspetto da indagare dell'omofilia del fatto che all'interno di queste comunità le persone si somiglino tutte tra loro e un rischio di chiusura c'è come gestirlo però con l'alfabetizzazione così come abbiamo imparato a eliminare i nostri ex fidanzati dalle reti facebook allo stesso modo impareremo a gestire la chiusura sociale io sono convinta che anche per prove d'errore poi pian piano i meccanismi di chiusura sociale che si stanno creando si riuscirà a scardinarli però dobbiamo passarci dobbiamo passarci tutti e esperire direttamente pro e contro di quello che queste tecnologie ci consentono e poi imparare se siamo capaci magari ci sono delle domande che dite proviamo a vedere se qualcuno ha qualche osservazione qualche non so se c'è il microfono beh ma va bene altro oppure c'è questo io volevo chiedere ma io volevo chiedere alla professoressa Paese lei rispetto all'intervento di il suo intervento eccoci il suo intervento un pochino più diciamo come si può dire un po' più calato nella realtà diciamo dell'attività di tutti i giorni e ha anche un po' ciurlato nel manico all'inizio nel senso che ha detto delle cose che poi dopo ha verificato a posteriori che ha come diceva ad esempio all'inizio diceva io ho scritto il libro la rete che lavora ma la rete non lavorava lei ha scritto la rete che lavora le parole la rete che lavora uno si immagina che ci sia un proficuo una proficuo attività noi diciamo ha un po' ciurlato nel manico però giustamente perché c'è un hashtag è un hashtag secondo me c'è l'arcobaleno se lo lanciate come hashtag ha visto in prospettiva quindi non ha non si è fermata al contingente ma ha avuto una vision e ha visto che la rete deve necessariamente lavorare non può non lavorare perché non c'è solo tecnologia ma c'è un'interazione a livello sociale a livello umano eccetera quindi deve necessariamente lavorare la cosa che la domanda che io le volevo fare è appunto questa cosa è cambiato da quando lei ha scritto il libro a adesso che lei diceva però non ci ha specificato bene che cosa è cambiato grazie allora rispondo subito raccogliamo più allora la differenza ho ciurlato ma consapevolmente nel senso che no sì allora le profezie che si autoavverano hanno anche una loro legittimazione per lo meno sociologica per quanto possa valere no allora io lì vedevo i germi di quello che poi sarebbe esploso più avanti e vedevo in realtà una rete che lavora ma una rete che lavora dal punto di vista delle condivisioni delle informazioni la differenza che sto vedendo adesso è invece che attraverso la rete si creano progettualità nel crowdfunding girano risorse grazie al crowdfunding stanno nascendo delle aziende grazie al crowdfunding si stanno facendo film si stanno scrivendo libri si stanno aprendo progetti di innovazione a 360 gradi ho intervistato l'altro giorno quello lo dico perché è molto bello visto la creazione per esempio c'è un progetto che mi piace moltissimo in Sicilia per la costruzione di un palcoscenico per fare spettacoli per fare concerti in musica classica all'aperto in cui architetti e musicisti lavorano insieme alla costruzione di un palcoscenico che permetta alla musica di risuonare nel modo corretto anche in ambienti all'aperto un progetto che probabilmente altrimenti non avrebbe non avrebbe trovato finanziamenti perché nessuno riesce a entrare in logiche così interdisciplinari tra l'altro e questo è uno dei tanti vincoli quindi quello che ho visto negli ultimi mesi è un trasformarsi di comunità di scambio di informazione in comunità di scambio di risorse risorse che sono anche finanziarie secondo me non è indifferente questo è un passaggio importante cioè nel momento in cui il like si trasforma nel passaggio di x euro c'è un commitment che è diverso necessariamente e non a caso la proporzione tra like e euro va studiata cioè vedere ad ogni progetto ogni x like quanti euro corrispondono ci dà il polso di quello che si sta muovendo in rete e che cosa muove veramente che cosa invece fa soltanto hype senza nessuna sostanza di quindi probabilmente il mio punto di vista cioè il cambiamento io lo vedo soprattutto legato a questo al nascere di progettualità che nascono grazie alla rete poi vivono nei territori ed è fondamentale questo e grazie e questi progetti lo dimostrano chiaramente progetti di crowdfunding che sto studiando per esempio raramente vivono solo online sono molto radicati nei territori in cui vengono sviluppati in Italia da questo punto di vista è molto interessante vedere come stiano nascendo e stiano andando molto bene delle piattaforme territoriali locali dove accettano progetti soltanto dei residenti di zone molto limitate territorialmente perché? perché questo favorisce la contaminazione tra online e offline e questo mi sembra un passaggio fondamentale nel creare comunità perché non restano comunità esclusivamente digitali ma sono comunità digitali che si animano con vincoli con legami poi invece in presenza questo io volevo chiedere se potete fare effettivamente ai vostri interventi una lettura di genere una lettura di genere? sì cioè avete fatto interventi parlando in generale se rispetto ai vostri la mia lettura di genere non riguarda specificamente il mondo digitale ma le comunità in questo caso allora direi che se c'è una speranza di comunità sono un po' drastico forse viene dalle donne le esperienze di comunità col senso che dicevo dell'obbligo di sentire e di riconoscere l'altro in quanto diverso non solo quanto è simpatico quanto è simile a me con lo sforzo con la fatica psicologica di accettarci io lo vedo accettarsi vedo lo vedo soprattutto cadere nelle donne so di esperienze in poste italiane importanti so di esperienze i neni che stanno sviluppandosi so di esperienze di donne che stanno costruendo forme di comunità con la capacità di costruire un sentimento di legame non solo prodotto dalla simpatia o dal sentimento come dire emotivo e mi pare molto importante mentre mi sembra meno significativa un'esperienza di comunità sul maschile su questo punto di vista anche perché purtroppo come sapete mi auguro che condividete questa prospettiva la differenza di genere e la discriminazione di genere è ancora molto importante in Italia che se ne dica e quindi nel mondo delle organizzazioni le donne ancora oggi hanno una grande discriminazione rispetto agli uomini rispetto faccio un esempio in posti italiani abbiamo fatto una ricerca è stata fatta una ricerca molto importante e hanno guardato le performance delle persone di responsabilità manageriale delle donne e degli uomini quindi il livello della prestazione e uomini e donne risultano in quantità simili sulle prestazioni medie quindi sulla prestazione media uomini e donne più o meno sono uguali percentuali mentre sulle prestazioni eccellente quindi i risultati molto importanti le donne sono di gran lunga più come dire performanti scusate l'espressione degli uomini però questo maggiore risultato sul piano del risultato aziendale non coincide in nessun modo con il risultato economico degli stipendi di queste persone quindi mi sembra che proprio c'è un'energia nelle comunità delle donne che io non trovo in questo momento nel mondo delle organizzazioni né gli uomini ma di genere la mia di genere umano la considerazione una considerazione di fondo su una credo sia anche dovuta al momento storico ma anche una mancanza in generale di riscoprire alcuni elementi molto umani che secondo me ci siamo dimenticati poi tendiamo a far sì a spiegare che la colpa in qualche modo è la tecnologia dell'evoluzione di mille cose ma è un elemento molto di base il mio come considerazione ovvero che se noi non ci mettiamo assieme a fare le cose difficilmente andremo da qualche parte e lo dico come considerazione generale molto umana molto povera in termini se volete di intellettuali o di citazioni perché siamo destinati storicamente a vivere così ma facciamo molta fatica a farlo e soprattutto questo lo ritrovate in qualsiasi momento credo che l'esempio di Gian Maria di prima su qualcheduno a fianco a noi sdraiato per terra e quel non mi riguarda comincia davvero a stridere un pochino poi noi se volete lo possiamo collocare nell'ambito dei social ma questa è soltanto come dire una conseguenza anche formale oggi che riguarda il fatto che parliamo della social media week questo lo dovete secondo me immaginare sui contesti sugli spazi sul concetto di bello che secondo me è un concetto che abbiamo letteralmente abbandonato io dico sempre un'ovvietà ma che sono molto più belle le cose belle delle cose brutte e credo che ciascuno di voi sappia che cosa voglio dire è tanto banale quanto efficace questo discorso quanto abbiamo a che fare col brutto ogni giorno e non vorrei sembrare Brunello Cucinelli che parla in quei termini mi riferisco a quello che ci sta attorno che di nuovo è quello che diceva Gian Maria prima gli spazi fisici in cui noi proviamo a vivere e lavorare tutti i giorni o la nostra come dire come noi sfruttiamo il tempo l'occasione che ci stavamo perdendo e che invece in qualche modo come ha raccontato bene Ivana i social ci permettono di recuperare è proprio quella di mettere a fattore comune tutta una serie di elementi che tendevamo a dimenticare a tenere separati quanta gara c'è Morstua Vita Mea quanto continuiamo possiamo andare avanti a ragionare in questi termini e credo che lo vediate poi in tutte delle contaminazioni quotidiane banali se volete sono come dire delle bolle d'aria che vengono a galla di qualcosa di molto più profondo il car to go il car sharing la parola sharing la parola sharing economy la parola di condivisione sono tutti elementi che alla fine è vero sfociano perché le tecnologie hanno aiutato tantissimo questo tipo di logica in fondo la tecnologia è semplicemente un abilitatore di qualche cosa di molto più profondo cioè ci si rende conto che non si può più fare a meno di costruire meccanismi di relazioni produttivi io per entrare nel meccanismo profondo che citava prima Ivana del crowdfunding un progetto l'ho fatto e invito tutti voi a provare a farlo proprio per capire n logiche il meccanismo della rete la condivisione di quello che voi pensate che cos'è secondo voi bello rispetto a chi vi sta attorno oltre al mero like di quella iniziativa guardate che chiedere a qualcuno di mettere 5 euro dentro a un progetto che non è il suo è uno sforzo sovrumano e l'abbiamo visto anche in occasioni non banali quando Ivana con tutto un altro gruppo di persone ha lanciato tre mesi fa l'iniziativa sulla sharing economy in Università Cattolica quell'evento è stato finanziato in parte anche grazie al crowdfunding ma quanta fatica c'è stata tra i like e i 5 euro versati c'è una dicotomia mostruosa perché? perché di fidenza non siamo ancora pronti cioè ci sono tutta una serie di logiche che stanno dietro che secondo me sono tutte in essere anzi in divenire e quindi la mia considerazione è una considerazione di fondo se noi non ci mettiamo a lavorare assieme veramente perdiamo un'opportunità ed è questo il punto e lavorare assieme presuppone di andare a lavorare assieme su un obiettivo comune infatti quella del crowdfunding è secondo me una bellissima palestra in cui si possono sperimentare queste tematiche il discorso se volete è ampissimo perché va a toccare veramente tantissime dimensioni ma la dimensione che tocca di più è quella di ciascuno di noi in relazione con gli altri ed è lì dove davvero il gioco si fa interessante e credo proprio alla luce di questi primi possiamo dire dieci anni social non so facciamo questo compleanno così facciamo finta prendiamo facebook credo che abbiamo tutti un po' di esperienza nella pelle sotto nella pancia soprattutto nelle mani per poter dire finalmente qualche cosa poter fare anche un'azione critica costruttiva perché tanto questa piattaforma di logica di interazione sarà qualche cosa che ci accompagnerà in futuro i makers i fab lab tutto questo movimento che sta dietro avere un'idea condivisa e metterla a fattor comune progetti in cui se tu hai un'idea riesci a collegare artigiani ad esempio che non avevano più un lavoro e che invece vengono messi di nuovo nel circolo produttivo proprio perché c'è un qualche ed uno che riesce a collegare elementi diversi è vero che abbiamo dei problemi geografici in questo paese chiunque di voi sia stato in California ha sicuramente sentito quella differenza che non saprei definire ma che possiamo dire alla Phil Collins è nell'aria proprio per avere una citazione molto profonda questa ma è davvero così cioè c'è un pezzo di spirito di libertà anche nel prendersi dei rischi nello sbagliare io dico sempre che se uno sbaglia e non è un errore fatale ma perché non si può sbagliare è normale l'abbiamo fatto tutti nella nostra esperienza cioè tutta questa serie di considerazioni se volete molto scontate in realtà sono ritornate a galla grazie al momento storico in cui ci ritroviamo che è un po' abilitato da tutto questo meccanismo tecnologico che permette di rimetterli in gioco e allora forse va sfruttato in questi termini il genere del mio libro direi che è questo molto generoso sì prego c'è una domanda una battuta velocissima sul genere distinguerei due livelli per lo meno nella mia esperienza di ricerca le professioni che si sviluppano sul web o attraverso il web dove le donne per esempio se guardiamo il registro delle start up innovative siamo arrivati a 1600 start up iscritte al registro speciale della camera di commercio lì le donne che hanno fondato una start up da una recente ricerca che ho fatto sono il 18% le imprenditrici in Italia mediamente sono il 24% cioè nel settore più innovativo dove le barriere all'accesso sono più basse dove ci si potrebbe aspettare una maggiore presenza di donne le donne invece sono addirittura inferiori rispetto alla presenza media delle donne imprenditrici in Italia lo stesso si vede in tutte le progettualità più strutturate se io guardo per restare sul tema crowdfunding i progetti di crowdfunding italiani che hanno raccolto più di 100.000 euro del 100.000 in su sono tutti uomini neanche una donna cioè laddove c'è un livello di professionalizzazione alta la differenza c'è ed è forte se andiamo invece su quelli che noi chiamiamo professionisti amatoriali proam cioè tutte quelle esperienze di persone che cercano di trasformare una propria passione in attività semiprofessionale o professionale quindi tutti i tentativi di mobilità sociale attraverso il web le donne ci sono e hanno grande successo cioè tutti i tentativi fatti attraverso la rete di sperimentarsi di sperimentare vite altre o professionalità altre sono molto al femminile fenomeni non so io ho studiato le food bloggers sono un esempio chiaro ed è un fenomeno tutto al femminile e altri fenomeni del genere per tornare al crowdfunding un aspetto che a me che sto approfondendo ma non ho ancora i risultati delle ricerche perché le sto conducendo adesso progettualità le progettualità micro quelle da poche migliaia di euro ci sono molte progettualità al femminile e di grande successo ci sono tanti casi di grande successo appunto invece sulle progettualità più importanti sono al maschile se invece andiamo a vedere i finanziatori le donne dai primissimi risultati però le sto ancora analizzando e niente ve li riporto così le donne finanziano progetti sociali le donne non finanziano progetti imprenditoriali di business c'è una chiara separazione le donne fanno beneficenza non finanziano progetti e su questo c'è una questione culturale italiana su cui dobbiamo interrogarci le scelte di spesa legate ai progetti sociali le donne le fanno se si tratta di investire in un'azienda innovativa sono uomini che lo fanno primi risultati tutti da indagare cioè qui c'è un lavoro importante da fare dal mio punto di vista in termini di ricerca dal punto di vista di altri invece anche proprio di riflessione l'altro fenomeno interessantissimo è quello della sharing economy per esempio se voi guardate le social street tolta fondazza che è stata la prima ma quindi ha fatto da prepista a Bologna ed è stata fondata prevalentemente da un uomo poi con un team però è un'esperienza maschile per esempio le esperienze milanesi di social street sono tutte al femminile e sono tutte create da professioniste da persone da donne che hanno un'attività professionale e lo fanno come attività complementare rispetto alla loro attività professionale questo è un altro aspetto tutto da indagare cioè la chiave di genere è una chiave molto interessante per leggere alcuni fenomeni e reinterpretarli attraverso questa questa chiave molto interessante volevo chiedere volevo chiedere parla di donne però volevo chiedere le vostre ricerche le vostre esperienze anche all'interno dell'azienda i giovani che ruolo hanno in tutto questo quindi nei crowdfunding quanti giovani ci sono perché si sentono tante success stories dall'America di giovani che hanno tutta l'attenzione anche dalle università che danno attenzione ai giovani e molte volte anche guardando in questa sala sì ci sono giovani ma non giovanissimi che non sono all'università sicuramente non hanno un lavoro e perché non sono qua dal momento che è gratuito uno lo cito io che è un partner di questa iniziativa che è Davide Dattoli voi sapete che c'è una sede al Talent Garden l'idea in fondo non è niente di nuovo se volete che è quella del co-working cioè sono spazi di co-working però Davide è stato in grado di costruirci un pezzo di progetto attorno e secondo me quello è un ottimo esempio Davide credo abbia 22 anni 23 anni giusto credo da un'idea se volete ripeto condivisa con n competitor piano C The Hub adesso ce ne sarebbero centinaia da citare la peculiarità anche lì di un pezzo di progetto viene fuori una cosa fatta in Italia e non so se lo sapete ma Davide ha aperto il primo spazio anche a New York cioè alla fine è stato riconosciuto credo una delle 5 start-up più innovative dalla stessa città di New York su che cosa ripeto su uno spazio di co-working ce ne erano già in giro ma c'è gente che a te sta anche qui per metterci un pezzo di valore quindi secondo me qualche esempio è rilevante cioè questo è soltanto uno degli esempi lo cito perché è formalmente parte della social media week e quindi è bello che qualcuno vada a fare un giro là per promuovere quello che si sta facendo però c'è comincia a esserci davvero fermento probabilmente dobbiamo essere anche in grado di non associare formalmente la parola start-up alla parola giovani alla definizione di giovani quando probabilmente anche lì c'è un'ottima opportunità di mix di competenze di età di conoscenza dove si può rimettere a fattore comune l'esperienza dove il pezzo del giovane porta se vuoi il valore di tutto quello che è con 4G giovane e ad esempio c'è tutto l'aspetto di gestione di progetti che chiaramente difficilmente un giovane ha e in questo paese onestamente è un po' più difficile rispetto ad altri era quello che provavo a dire prima parlavamo di genere ma io sono stato fregato da due donne quindi cioè il genere è un po' relativo nel senso che avevo chiesto la parola e poi hanno parlato due donne prima di me comunque io volevo io mi ero prenotato lei ha parlato mi ha rubato la parola e poi è intervenuta un'altra che mi ha rubato di nuovo la parola quindi parliamo di genere ma prego prego ci dica comunque le donne fanno un po' quello che vogliono quindi non è quello che vogliono va bene no entro nel merito della domanda scusate entro nel merito della domanda voi parlate date per scontato una sioma che assolutamente non c'è cioè che la tecnologia sia a un livello tale per cui qualsiasi persona possa collegarsi in internet possa interagire eccetera la realtà italiana non è esattamente questa noi abbiamo un grosso gap dal punto di vista tecnologico con tutti i paesi d'Europa non solo ma le società italiane solo il 50% hanno un sito internet questo è un gap incredibile di cui oggettivamente la prima la prima attenzione che ci dovrebbe essere è quello di creare la base se non c'è la base tutti i discorsi che stiamo facendo sono campati per aria scusate tocca a me rispondere è vero sul fatto che l'Italia sia indietro rispetto ad altri paesi europei soprattutto e anche ovviamente del resto del mondo è evidente e quindi no ma il mio punto è questo e quindi ognuno di noi ha la sua scelta da fare in base alla evoluzione alla propria evoluzione tecnologica il fatto è che ci siano poche aziende con i siti è vero ma allora mettiamo in discussione tutta una logica dell'imprenditorialità scusate di questo paese ma di cultura imprenditoriale di scelta di opportunità di di n.mila fattori poi c'è un se volete un aspetto di di carenza infrastrutturale ma questo insomma siamo abbastanza abituati in questo paese ed infatti credo che fosse Roberto Bonzio che racconta molto bene nel suo progetto italiano di frontiera di quanto noi riusciamo a andare più veloci quando andiamo all'estero proprio perché siamo abituati ad andare un po' più piano qua da noi sì sì va bene quindi siamo abituatissimi a muoverci come dire velocemente perché viviamo di 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 costrizione quindi qual è il punto il punto è vero la considerazione è corretta ma è una considerazione di prospettiva la interpreto così quindi dobbiamo fare una scelta e ognuno in come dire in sede propria deve scegliere su quale direzione muovere il proprio asse futuro è una scelta da fare difficilmente possiamo dire che è una scelta che puoi fare a cuor leggero quella di rinunciare a stare su questa onda poi ognuno può valutare gli aspetti perché c'è anche secondo me un ritorno a un movimento lento della tecnologia quindi il recupero di alcuni aspetti se volete è la parola artigiane digitale l'avrete sentito migliaia di volte ma credo assomigli un po' a questo recuperare la capacità di fare le cose usando uno strumento digitale ma con una capacità artigianale quindi quello e credo che le stampanti 3D se volete prendere proprio il paradigma siano come dire l'oggetto perfetto per chi ha una buona capacità progettuale ha un'idea e questo è l'ultimo miglio che ti permette di renderla qualche cosa di utile condiviso un prodotto eccetera eccetera io ho due domande veloci la prima è sul gap tra i like e i finanziamenti effettivi se potete dare dei numeri di riferimento e l'altra è su Talent Garden cioè se puoi definire un po' di meglio cosa intendi per quel di più che il Talent Garden ha dato rispetto al coworking io parlo di questo tu Ivana dell'altro non volevo monopolizzare vado velocissimo la differenza da quello che ho percepito l'idea che sta dietro l'idea perché l'idea è uno spazio di coworking tipicamente lo spazio di coworking se sapete come funziona è un luogo fisico in cui io metto a disposizione rete conoscenza se vuoi ma prevalentemente infrastruttura il primo passo invece è nella condivisione della conoscenza quindi ci sono degli attori che ruotano all'interno di questo spazio che si contaminano quindi ho la possibilità di avere un ingegnere e un informatico e magari un umanista e quindi avrei ripreso il paradigma di Olivetti che già faceva 30 anni fa ma insomma è inutile ripeterlo quindi 50 scusami hai ragione e quindi niente di nuovo sotto il sole soprattutto in Italia ce lo sapevamo già fare ma immaginate oggi con le nuove tecnologie con la possibilità di mettere a disposizione quindi di chi ha un pensiero questa possibilità di contaminazione e questo è il primo passaggio quindi il coworking non è soltanto uno spazio di condivisione fisico non ho soltanto una rete non solo sto bene ci sono i divani IEA che mi fanno sembrare in California ma scambio esperienze e competenza poi c'è un'ulteriore aggiunta sul lavoro che ha fatto TAG ovvero di quello di fare una specie di selezione a monte di chi va lì dentro quindi non è accetto tutti 12,50 euro e portami e portami la tua contaminazione ma portami un pezzo di valore che può essere di valore per gli altri quindi non so si sviluppa su tecnologie su base cognitiva e quindi porto un progetto che fa anche ricerca semantica e quindi ci può essere un'assonanza di ricerca tra questi due elementi metterli a fattore comune da valore quindi come dire c'è una logica progettuale nella selezione dei partecipanti che vivono all'interno di quello spazio e qua credo sia la chimica che ha permesso a un'idea ottima eccetera eccetera di ricevere finanziamenti perché TAG credo sia uno degli spazi di co-working al mondo che comincia a essere appetito dai finanziatori perché ci vedono anche la logica progettuale che sta dietro sul rapporto like finanziamenti allora in termini di ricerca siamo sui primi passi per cui metri che non si possono ancora dare quello che si può dire con certezza è progetti che non si possano appoggiare a una presenza sui social già consolidata non hanno le gambe neanche per partire per cui se un progettista vuole presentare una campagna di crowdfunding o ha già una sua base sui social Facebook o Twitter oppure non c'è la miccia che permette poi di far partire la cascata informativa quindi non ha speranza e questo le ricerche internazionali già lo dimostrano ho fatto una piccola ricerca su 280 progetti sociali finanziati in Italia tramite crowdfunding da organizzazioni per cui limitata e da quella ricerca esce un primo dato interessante da approfondire che è uno dei fattori che è più correlato quindi non c'è un rapporto caso-effetto ma di correlazione con il successo della campagna è l'avere un profilo Twitter Twitter in generale è correlato performance molto buone nelle campagne di crowdfunding come lo interpreto ma qui devo ancora approfondire la mia sensazione da verificare sul campo non è che Twitter funzioni meglio di Facebook ma è che le organizzazioni che usano anche Twitter sono più avanzate nelle capacità di comunicazione tramite i social per cui quello diventa un indicatore della capacità di utilizzo dei social non di efficacia dello strumento però da verificare quindi social fondamentali saperli usare bene fondamentale per farli funzionare una battuta solo rapida sul discorso delle generazioni e dei giovani perché è un dato interessante noi parliamo sempre di nativi digitali e poi andiamo ci guardiamo intorno e guardiamo soprattutto le pratiche economiche sui social beh non sono ragazzini però non mi sorprende soprattutto se poi andiamo a vedere crowdfunding abbiamo poche eccezioni di progetti finanziati dai ragazzini ho fatto un'intervista stamattina bellissima di un ragazzo che ha lanciato il progetto di un film lui ha un suo seguito molto importante ha 160.000 abbonati al suo canale YouTube e sono ragazzini tra i 14 e i 17 anni si è appoggiato a quella base per raccogliere finanziamenti per il suo film 2000 persone l'hanno finanziato lui era deluso e io dicevo beh però sono 14 e i 17 anni vuol dire che questi ragazzini sono dovuti andare del loro mamma papà anzi papà visto che si potrebbe interpretare come progetto sociale supplicarlo di avere la carta di credito Paypal e portarlo perché in linea di massima il 14 e i 17 anni non ha l'autonomia per fare queste scelte quindi sicuramente la fascia d'età è un po' più alta quello che sto vedendo ed è la fase numero due per esempio nel crowdfunding cosa succede che i ragazzi molto svegli molto in gamba che hanno una chiara percezione di dove va il mercato fanno campagne anche di grandissimo successo alcune tra le campagne sopra i 100.000 euro sono di questo tipo dopodiché non hanno le capacità manageriali per gestire quei progetti che avendo raccolto 150.000 euro faccio riferimento a casi reali poi non riescono a implementare allora da questo punto di vista dobbiamo fare un patto intergenerazionale forte cioè questa è un'occasione fantastica per un'azienda tradizionale per fare un'alleanza con i progetti per esempio di successo attraverso il crowdfunding in questo modo tu prendi le competenze manageriali consolidate dell'azienda tradizionale le innesti su una capacità ideative di capacità di visione e di saper catturare il mercato del ragazzo che però non ha le competenze manageriali e qui si potrebbe veramente con un sistema paese un po' più un ecosistema come piace dire che funziona un po' meglio invece mettere in campo dei progetti molto più interessanti e alla fine portare a casa risultati tutti c'è tempo per un'ultima domanda volevo solo chiedere alla dottoressa Paese se all'interno della sua ricerca quanto ha pesato il fattore di advocacy del proponente del progetto all'interno del crowdfunding e in secondo luogo nei casi di successo se ha provato a testare quanto potesse essere elevato l'inquinamento del dato perché non sono pochi quei progetti in cui magari non si raggiunge la soglia prevista per il finanziamento ma magari si raccolgono 30.000 euro su 60 di target e gli altri 30.000 euro vengono messi dalla proprietà stessa il che non rende effettivo di fatti il dato di successo insomma questo perché mi interessava capire se le piattaforme di crowdfunding e poi certamente bisognerebbe distinguere tra le varie piattaforme quindi tra piattaforme che a seguito del finanziamento dato offrono una piccola percentuale di equity oppure piuttosto che semplici rewards come la differenza che ci può essere non so tra siamo socio kickstarter piuttosto che e quindi era interessante capire se il meccanico crowdfunding è veramente un sistema anche filantropico attraverso i quali la comunità finanzia un progetto o non è altro che una condivisione del rischio imprenditoriale un altro strumento di condivisione da parte del rischio imprenditoriale da parte di aziende magari già affermate che utilizzano il product manager di riferimento che ha una certa advocacy sul mercato per recuperare facilmente i bakers rispetto invece appunto al ragazzino universitario che ha l'idea geniale ma che non lo conosce nessuno non so se sono riuscito io vi chiedo scusa perché ho portato tutto il discorso sul crowdfunding perché sto facendo ricerca su questo quindi mi è venuto che vedevo un po' più come esemplificativo di dinamiche più ampie quindi riconducendo alle dinamiche più ampie beh no una risposta tecnica rispetto al dato falsato allora quello è vero solo in piccola percentuale perché banalmente le piattaforme la maggior parte delle piattaforme trattengono una percentuale per cui se io ho un obiettivo di 60.000 ne prendo 20.000 poi ci metto io i 40.000 vuol dire che io ci pago almeno il 5% di commissione sui 40.000 che ho messo io a quel punto il gioco non vale la candela per cui in linea di massima il dato se è falsato è falsato soltanto su piccole cifre succede se io ho chiesto 60.000 e sono arrivato a 58 allora ci metto i 2.000 altrimenti su cifre più importanti non vale la pena e quindi il dato falsato tutto sommato si riconduce a poco invece l'utilizzo strumentale del del crowdfunding per progettualità già più consolidate magari nel senso che vorrebbe dire per l'azienda tradizionale rimettersi in gioco attraverso questo strumentale io la vedrei come un dato assolutamente positivo cioè vuol dire che un'azienda consolidata tradizionale vede in questo canale un canale per fare ricerca e sviluppo se ho ben inteso la domanda e si mette in gioco attraverso queste piattaforme per farlo ci fosse purtroppo i pochi casi di aziende consolidate che hanno fatto campagne sono fallite ma perché? perché non non c'era una comprensione della dinamica della logica del crowdfunding quindi ci fosse ma ci fosse in modo sano perché invece quello che abbiamo visto finora non ha funzionato perché si cercano di replicare logiche tradizionali ecco che è un po' il rischio generale di tutti questi meccanismi cioè avere a disposizione strumenti che ti permettono di fare cose nuove invece utilizzarli per fare cose vecchie e riprodurre tutti i difetti che avevamo visto invece prese che non lo dire però io lascio invece per una conclusione mi dispiace rubarvi l'ultimo minuto una considerazione che mi sento di poter dire dal mio osservatorio è questo è che quando cultura e economia si separano non c'è futuro e mi sembra che costruire condizioni di sviluppo economico oggi abbiano bisogno di cultura e cultura significa sforzo cognitivo significa pensiero significa disciplina e purtroppo questo è un tema che mi pare importante io seguo per lavoro a grandi aziende c'è uno smarrimento completo nella classe nei gruppi dirigenziali delle grandi aziende perché nessuno sa interpretare cosa accadrà nel futuro e per i giovani nelle aziende oggi almeno quelle che io c'è uno spazio che è veramente ristretto perché come sapete c'è il 61% di giovani che non ha lavoro anzi il 61% di giovani in Italia fino ai 35 anni vive ancora con la famiglia e questo non significa perché sono mammoni perché c'è una crisi perché c'è una situazione allora il tema di uscire da questa dimensione richiede pensiero richiede sforzo di cui ricostruiamo forme per stare insieme e non può esserci una novità un cambiamento del sistema economico dell'opportunità che l'economia può dare al lavoro e alle giuste aspettative di lavoro senza questo sforzo invece io quello che vedo è che i giovani come diceva prima benissimo Ivana si stanno spesso richiudendo in comunità omogenee e vive una sensazione di chiusura e di indisponibilità a mettersi in una dimensione di apertura alla diversità e che richiede sforzo cognitivo richiede disciplina scusate questa dimensione un po' come dire però non credo che il futuro sia fatto solo da risorse economiche nuove ma cultura e economia creano futuro altrimenti e mi auguro che la rete produca anche questa dimensione non solo un mettere insieme emozioni condividere esperienze condividere ma condividere anche uno sforzo di accuratezza di quello che pensiamo e di quello che viviamo grazie 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 grazie